Chi è una ragazza del mio corso? Credo mia mamma Mangia a morte Esatto Sicuramente un'ostalte Favij Beh, in generale da qualsiasi persona che non è un mio amico E prof di matematica Da un pedofilo Da un'amica con cui ho litigato E dall'ex di un ex Da mia madre, probabilmente Penso la mia prof di storia del liceo Da mia madre Chi è? Una ragazza del mio corso Sembra che durante il weekend la vostra compagna Marina Mills si sia suicidata È vero che tu hai richiesto con il mio corso? Chi anzi? L'hai postato tu? No, no, l'ha fatto qualcun altro Io mi cago da Facebook Non è stato un suicidio, penso più a un rituale Ci deve essere qualcosa No Andiamo No, no, vabbè E' figo Non metti ansia Dall'8 giugno al cinema